Domenica 10 febbraio si celebra la giornata del ricordo per non dimenticare i massacri delle foib. Nel capoluogo nisseno il comune di Caltanissetta in collaborazione con la SDC tra le righe, il liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII di Caltanissetta e il contributo di Marcella Montoro, Roberta Barba e di Michael Gabriel Miciche organizza, si legge nella nota, un incontro al centro espositivo d'arte contemporanea ex rifugio Salita Matteotti alle 17.30 per ricordare insieme. Attraverso uno spettacolo suggestivo ed emozionante è la visione del documentario La scomparsa di mio padre realizzato da Il Laboratorio dei Sogni con la partecipazione di Michela Lauria e di Marta Ciolino. Si esibiranno gli allunni del liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII di Caltanissetta. Di mattina invece alle 10.30 Caltanissetta protagonista poserà un mazzo di fiori in via Luigi Bruno, martire delle foibe. La cittadinanza è invitata a partecipare.